Annalisa Minetti, la celebre cantante e atleta paralimpica, ha rilasciato una drammatica intervista in cui ha svelato il deterioramento completo della sua vista. La talentuosa artista, affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, aveva già affrontato numerose sfide nella sua vita, ma ora ha dovuto fare i conti con la perdita totale dell'uso degli occhi. Nel corso dell'intervista, Minetti ha confessato di vivere nell'oscurità totale, definendola una triste realtà in cui non può più riconoscersi. «Sono come mi sento oggi, completamente al buio, quando vado in televisione vestita da Gnocca», ha dichiarato con amarezza la cantautrice. La sua condizione visiva si è aggravata progressivamente, nonostante i tentativi del suo oculista di contenere il deterioramento anatomico. Minetti ha spiegato che suo padre le aveva sempre detto che sarebbe stata la luce per sé stessa, ma ora si sente incapace di farlo. Nonostante tutto, la determinazione e la forza di volontà che l'hanno contraddistinta sin dall'inizio non l'hanno abbandonata. La cantante ha delineato il concetto di inclusione come uno stile di vita e una cultura, sottolineando che non è sufficiente parlare di essa, ma bisogna agire. La sua visione sull'inclusione si estende anche all'attività motoria come strumento efficace per insegnare ai giovani il valore di unire le persone anziché dividerle in categorie. «Sembrerebbe che stiamo dividendo il mondo in categorie invece di unirlo. Omosessuali, persone con ritardo cognitivo, non vedenti, si divide invece di unire», ha affermato con convinzione Minetti. La testimonianza di Annalisa Minetti ha suscitato grande empatia e ammirazione per la sua resilienza e il suo impegno nel promuovere l'inclusione. Nonostante l'oscurità che l'ha circondata, la sua voce continua a risuonare come un faro di speranza per tutti coloro che lottano contro le avversità.